Via Fiorentina si farà? Io ci spero sempre, è chiaro i lavori non stanno andando come dovrebbero andare, è chiaro è una procedura in mano anche alla struttura tecnica del comune e stiamo sollecitando perché chiaramente partino i lavori principali, io me l'auguro vivamente. Prima una buca e poi tutto ricoperto in molti, ci avete segnalato quanto stava accadendo nella zona dove dovrebbe sorgere la tanto agognata rotatoria di Via Fiorentina ad Arezzo. I lavori principali non sono ancora iniziati, le ruspe e gli operai erano per un lavoro a corredo, come spiega l'assessore alle grandi opere del comune di Arezzo, Marco Sacchetti. Allora è stata ricoperta perché l'opera che è stata realizzata è un'opera propedeutica alla realizzazione dello snodo ferroviario, è uno spostamento di una fognatura delle acque meteoriche, che è stata realizzata con una tecnica speciale che si chiama del macro tunneling e una volta realizzata è una fognatura e quindi si ricopre perché sta sotto terra la fognatura, quindi nulla di preoccupante. Ne verrà fatta a breve, spero un'altra, perché è uno spostamento di una fognatura nera che seguirà la stessa iter, quindi verrà fatto uno scavo, una buca, verrà spinto questa tubazione nel sottosuolo e poi verrà ricoperta. Quindi è tutto normale. L'auspicio è chiaramente che inizino quanto prima i lavori principali, ovviamente, perché questi sono lavori a corredo. Indubbiamente è una stagione difficile per le opere pubbliche e il sistema è quanto mai intasato per l'affanno anche di riuscire a completare alcuni lavori finanziati con i fondi del PNRR, obiettivo che sembra piuttosto complicato. Allora, l'opera quella lì nella fattispecie non è finanziata con i fondi PNRR. È chiaro che c'è una criticità generale sul PNRR, ma non solo. Anche a Rezzo abbiamo circa 30 milioni di opere extra via Fiorentina sul PNRR che non so se riusciremo a realizzarle entro il 2026 come richiesto dalle direttive. Ma questo riguarda tutto il Paese, riguarda tutta l'Italia. Infatti ne stanno parlando ora anche a livello nazionale di scadenziare un po' le tempistiche. Perché il problema poi, al di là dei problemi specifici del singolo appalto che ci sono, via Fiorentina ha delle specificità, dei problemi annosi che hanno prodotto dei ritardi, delle evitazioni dei costi. Però c'è un problema generale. Dal mio punto di vista non c'è, come dire, le risorse umane, la forza lavoro per fare tutti questi appalti. Quindi anche le imprese, come dire, tendano, detto volgarmente, a tappare un po' buchi. Un po' lavorano a un cantiere, un po' lavorano ad un'altra. Questo a livello generale. Quindi sono problemati che si sommano e fanno sì che i lavori ritardano in maniera estrema. C'è stata una levitazione dei costi dovuta a due fattori. Un fattore internazionale, che è il fattore ovviamente legato alla guerra dell'Ucraina e al costo delle materie prime. In Italia c'è stato un effetto moltiplicativo, che è il super bonus, che ha fatto sì che chiaramente le materie prime schizzassero più rispetto a quando sono schizzate come prezzi in Francia. Questo ha prodotto nella prima fase post-Covid un rallentamento dei lavori perché non c'era ancora una norma specifica che dava garanzia all'impresa di adeguamento dei prezzi. E quindi le imprese non lavoravano perché se io lavoro ci rimetto. Semplifico. Poi dopo il legislatore ha prodotto delle norme sull'adeguamento dei prezzi, la revisione dei prezzi, che tuttora c'è, però è chiaro che poi gli importi sono esplosi.